Ciao a tutti, non ci sentiamo più, ha ancora interesse? In questo video voglio fare un interattivo in modo tale da rispondere a questa domanda Scegli il mazzo di tarocchi che ti attira di più Allora, mescoliamo le carte Mescoliamo in modo tale che tutto possa accadere nel modo giusto Ti ricordo una cosa fondamentale Ti ricordo che se non sei ancora iscritto al canale di iscriverti al canale E di seguirmi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco In più, vediamo di sistemare un po' meglio In più ti ricordo ancora una cosa Ti ricordo di abbonarti al canale Qualora non fossi abbonato al canale E abbonandoti al canale potrai ricevere risposte precise, specifiche alle tue domande Quindi a una cifra simbolica ti potrai abbonare al canale E adesso veniamo al tema Veniamo al tema Allora, io farò un interattivo dividendo tre mazzetti Allora, in modo tale che tu possa sceglierne uno dei tre Ci sarà un mazzetto nero, un mazzetto blu e un mazzetto rosso Benissimo Quindi ti ricordo la domanda Esattamente è Non ci sentiamo più Ha ancora interesse Interesse per te ovviamente Allora, mazzetto nero Mazzetto rosso E mazzetto blu Adesso quello che ti chiedo è di concentrarti un attimo E scegliere, andare a scegliere il mazzetto che preferisci Sia quello rosso, nero o blu Nero, blu, rosso Allora, prendi tutto il tempo che ti serve Scegli il mazzetto che preferisci Ok, io inizierò col nero Tolgo il blu Tolgo il rosso E lasciamo il nero Allora, andiamo un po' a vedere che cosa dicono Le carte Allora, il re di coppe Il re di coppe Beh, le coppe rappresentano un po' più i sentimenti Rappresentano un po' più l'amore Il re rappresenta un amore anche pieno Un amore importante Ma in questo momento ostile Un po' contrario Quindi in questo momento Diciamo che L'interesse potrebbe essere un po' Venuto meno da un certo punto di vista Un po' diminuito C'è un po' una perdita di interesse Ecco, possiamo dire Dovendo dare una definizione Direi che in questo momento Ci può essere un po' un calo di interesse Non è un calo totale Perché sono venuti fuori comunque I sentimenti Ma comunque un calo di interesse È presente Poi abbiamo però Sempre il 5 di coppe Quindi sempre la carta relativa ai sentimenti Ecco, in questo caso Diciamo, ci sta confermando che Il 5 è anche come numero Qualcosa che va oltre la pienezza Le coppe che si stanno riempendo Che stanno andando Verso la perfezione Diciamo, da questo punto di vista Quindi i sentimenti Effettivamente ci sono Anche se Diciamo, sono collegati Qua abbiamo il 7 di bastoni Più a una sfera sessuale Quindi Diciamo così Che il sentimento È presente L'amore è formato Da due parti È formato da Come dire Affetto e passione Qua siamo più collegati Sulla passionalità E poi abbiamo Questo Il Abbiamo Il carro Il carro Questo è un arcano maggiore Abbiamo il carro Dalla vittoria Il carro Dalla vittoria I cui effetti Sono un po' attenuati Però perché È al contrario Però diciamo che È una relazione Che sta ancora in piedi Quindi Potrebbe stare ancora in piedi L'interesse Sicuramente ci potrebbe essere In effetti Lo conferma anche la giustizia Perché Ti verrà fatta giustizia Quindi Diciamo che alla fine Non dovrai lamentarti Ciò che deve accadere Accade E Questa relazione Può andare ancora avanti Anche se Lo dice anche L'appeso Diciamo così Può andare ancora avanti Con qualche fastidio Anche se Non sono poi Fastidi eccessivi L'appeso è venuto al contrario Sembra quasi Che stia camminando Anche se In questo caso È un po' bloccato Quindi Da questo punto di vista Ci può essere Questa relazione Puoi vivere un po' Come un blocco Che ti impedisce Di svolgere Le cose che vuoi Però Diciamo che La forza Poi alla fine Conferma Che È una relazione Che Che può andare Tranquillamente avanti Quindi direi che Questa prima lettura Conferma Che c'è ancora interesse Nei tuoi confronti L'interesse Permane Bene Ora Passiamo Alla terza Stesa La stesa Rossa Quindi Prendiamo La stesa Rossa Che ha scelto La stesa Rossa E vediamo Un attimino Allora Abbiamo subito La torre Quindi C'è subito Una Rottura secca Quindi in questo caso Anche se Al contrario Però C'è stata subito Una rottura E questa persona Non è stata Non è più Diciamo Non è più di fatto Coinvolta Con te Anche se vedremo Come sarà L'evoluzione L'evoluzione Ti dice che Ci vuole Molta pazienza Abbiamo ancora La temperanza Finché avvenga Un momento Una trasformazione Un momento Un coinvolgimento Con questa persona È necessario Avere Comunque Pazienza Beh Il sette di denari È un po' Potrebbe essere Il coinvolgimento La strada Che tu puoi utilizzare Che è legata Ad una Ad una Diciamo Ad un interesse Economico Che ha questa persona Nei tuoi confronti Un interesse Economico Che può Spingerlo Anche al Tradimento Può spingerlo Anche al Tradimento E comunque Al non essere Al non essere Anche se Un po' Attenuato Diciamo Non essere Perfettamente Felice Perfettamente A suo agio Abbiamo qua Le spade Che confermano Questa possibilità Di Tradimento 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 Che però Non viene Eseguito Per Diciamo Per amore Quindi Il disinteresse Nei tuoi confronti Può essere Soltanto Un tradimento Fisico Non per amore Non per amore Fisico E ci dà Stando anche La conferma O per questioni Economiche Quindi probabilmente A che fare Con una persona Molto Possiamo dire Nei tuoi confronti O in generale Una persona Possiamo definirla Molto Materialista E molto interessata E infatti Ci viene fuori Proprio Di nuovo Il 4 Che rappresenta La conclamazione Del fatto Che questa persona Comunque Ha voglia di ferirti Ha voglia di allontanarsi Quindi io In questo caso Direi che L'interesse Di questa persona Nei tuoi confronti Se è rotta All'inizio Difficilmente Potrà Ricucirsi Quindi molto meglio Guardare oltre Bene Vediamo L'ultima Che è La stesa Blu Prendiamo Il pacchettino Blu E vediamo Allora La prima Carta Oh Le stelle Quindi Le stelle Manifesta È una bella carta Manifesta Sicuramente Un interesse Tra l'altro Ci sono anche Se vogliamo Tutte Le possibilità Per poter ottenere Dei risultati positivi L'interesse Sicuramente È presente E sicuramente E sicuramente È a che fare Con Una persona Importante Che potresti essere Tu O l'altra persona Comunque una donna Di potere Una donna Di forza Che Gestisce Appieno La situazione Che governa La situazione L'amore L'amore È presente Anche Anche se I due Diciamo Che Rappresenta Talvolta Un po' Però Rappresenta Talvolta Un interesse È un sentimento Che deve ancora Crescere Deve ancora Maturare Deve ancora Svilupparsi Disvilupparsi Del tutto E infatti Vediamo Una possibile Insidia Diciamo In questa Relazione Che può essere Che è Il re Il re Di spade Il re di spade Che se sei donna Può rappresentare Comunque Una persona Che Ha un interesse Ma Un interesse Non proprio Limpido Nei due confronti E se sei uomo Potrebbe rappresentare Comunque Un antagonista E ci dice Anche che ci sarà Un cambiamento Un cambiamento Anche Anche Profondo Diciamo Anche profondo Non sempre Potrebbe essere Un cambiamento Positivo Quindi Arriverà Comunque Presto Una sorta Di cambiamento Una sorta Di cambiamento Abbastanza Abbastanza Forte E Il re di denari Da un certo punto di vista Lo conferma Conferma Questo cambiamento Il re a denari Lo conferma E Sarà un cambiamento Solido Un cambiamento Che potrebbe essere Anche all'interno Della relazione Perché ripeto Il coinvolgimento Da un certo punto di vista Da un certo punto di vista C'è Anche se vanno Ricostruiti i sentimenti Quindi In realtà La relazione Poteva andare avanti Anche Anche con un cambiamento All'interno Anche se poi abbiamo Il dieci di spade Che scusate Abbiamo il dieci Di bastoni Dieci di bastoni Che Afferma che Affinché ci possa essere Una relazione solida Va completata Serve una completezza Maggiore Ma che comunque Da un certo punto di vista È anche presente Questa completezza Legata alla La sessualità Se non c'è Va comunque Sviluppata La sessualità Mantenendo una Una sessualità Una personalità alta Anche in questo caso La relazione Può tranquillamente Riprendere Nel modo corretto Ecco Queste sono Diciamo Le Le tre stese Quindi Iscriviti al canale Tanto metti un like Se il video Se ti è piaciuto Iscriviti al canale Seguimi Sulla pagina Instagram Massimo Terramasco E ti ricordo Che su questo canale È presente l'abbonamento Se ti vorrai abbonare Potrai farlo Ottenendo delle risposte Mirate e precise Alle tue domande Ciao a tutti